Quest'anno facciamo un coro gospel, tutti ben vestiti e li faremo cantare, alcune canzoni di Natale e in più presenteremo un libro che abbiamo fatto durante le attività, durante l'anno, che è stata la bottega della parola e hanno raccontato le loro storie, della loro vita vissuta e noi per ricompensarli li abbiamo pubblicato il libro che è questo e chi vorrà lo potrà anche acquistare dando una semplice offerta. Per quando è previsto l'appuntamento? L'appuntamento è per sabato 19 alle ore 17, la casa di riposo San Francesco a Marotta in via Illica e vi aspettiamo numerosi, sia chi vuole anche per acquistare questo libro, cioè dare questa offerta che in collaborazione con la Croce Rossa di Marotta, con il comitato, almeno ci aiutano.